amici di canale caccia.tv siamo a dva edizione 2019 sono con mayla siamo all'interno dello stand della marsupio e abbiamo una novità di prodotto che adesso tu mi illustrerai perché ci siamo messi sopra questo tavolo perché qui è magic box la scatola magica prego questo nuovo prodotto per la collezione hunting 2019 di nature by marsupio e adesso vi vado a spiegare un attimino di cosa parliamo innanzitutto come si vede è uno zaino 45 litri si chiama forest 45 xl pf e le due particolarità sono innanzitutto lo schienale è questo qui quindi è dotato di cuscinetti che donano comfort di traspirabilità alla schiena con tanto di retina di traspirabilità vedete ma non finisce qui perché aprendo la cerniera ecco perché ho parlato di magic box e qui ci sono le sorprese aprendo la cerniera vado ad estrarre questa sedia che è questa qua è totalmente estraibile quindi posso utilizzarla separata dalla dallo zaino quindi non dovesse non servirmi posso lasciarla a casa a chiudere la tasca e certo perché inutile stare a portare dietro diciamo dei pesi inutili specialmente quando si va a montaggio dunque se posso prego praticamente si fissa in questa maniera qui vado a fissare tutta quanta una volta in piedi fisso di nuovo un attimino le cinghie in maniera che sia più stabile e quello che era il mio schienale prima diventa diventa praticamente la seduta della sedia cioè questa è la vera genialità italiana amici carissimi perché non solo l'estraibilità della sedia che la utilizziamo non la utilizziamo ma l'andiamo ad ancorare e quando dobbiamo andarci a sedere il massimo del comfort e della comodità che la flessibilità dei propri prodotti è stata fin da sempre una delle caratteristiche della marsupio lo sapevamo ma qui vi siete veramente superati cara mia grazie e ulteriore valore aggiunto se posso aggiungere assolutamente qui sulla parte frontale abbiamo estraibile la tasca portafucile quindi in caso di necessità se dovesse servirmi posso andare a qua c'è chi c'è venuto in aiuto guardate vedete quindi il fucile viene ancorato perfettamente e adesso lo facciamo arrivare fino in fondo nella tasca ecco qua poi naturalmente chiaramente viene fissato incredibile eccezionale perché a questo poi si aggiungono tutte quante le altre funzioni solite praticamente che ci offre marsupio tantissime tasche estremamente funzionali una capacità abbiamo detto di 45 litri quindi stiamo parlando di una capacità importante ma veramente questa volta mi avete sorpreso maila perché è un oggetto molto molto particolare creativo utile e estremamente flessibile nell'utilizzo e la qualità naturalmente sempre la qualità marsupio perché ricordiamolo la marsupio li produce in italia questi prodotti li produce da tanti anni è leader in questo tipo di mercato e non poteva venire fuori che da marsupio un'idea di questo genere perché avete abbinato l'utilità con la praticità chiaramente gli spalloni anche rinforzati tutti quanti i blocchi di serraggio niente non ho penso altro aggiungere a meno che noi abbiamo altre sorprese se posso aggiungere qualcosa sul materiale perché no assolutamente resistente leggero antistrapo antirovo quindi che sono le caratteristiche tradizionali di marsupio che abbina o questi materiali estremamente tecnici o quei bei materiali mano pesca che contraddistinguono anni le produzioni del nostro amico pino bene amici di canale caccia ricordiamo l'indirizzo internet www.marsupio.it potete vedere tutto quanti i prodotti della marsupio perché no se volete acquistarli anche cacciashop.it cacciamarket.it che fa parte del nostro network perché siamo noi i primi a testimoniare la qualità del prodotto marsupio abbiamo questo rapporto di collaborazione da tanti anni e è un rapporto di collaborazione con persone serie competenti che tirano fuori continuamente soluzioni per il nostro mondo amici cacciatori dai va e dallo stand di marsupio al momento è tutto vi salutiamo grazie al solito mai la per la tua collaborazione il tempo che c'è dedicato www.marsupio.it